Un punto di mostra e vendita per artigianato di qualità in via Cesalpino, il progetto al quale CNA tiene molto. Siamo andati a visitarlo. Siamo in via Cesalpino, qui un punto per vedere, assaporare il gusto e la qualità dell'artigianato, quello vero. Sì, qui l'artigianato, quello della provincia di Arezzo, alcune delle eccellenze, va riegato. Ognuno di noi ha un saper fare nelle mani, si vuole presentare, far conoscere alla città e a tutti quelli che vengono da fuori quello che è Arezzo. Per noi si viene da una cultura di arte e qui dentro abbiamo l'arte. Ecco, si possono trovare tante cose. Dal 2021 che è iniziato quello che era un esperimento, adesso è diventato un punto definitivo, lo ricordiamo in via Cesalpino ad Arezzo. Che cosa si può trovare? Ma qui possiamo trovare il ferro battuto, abbiamo i cappelli, abbiamo le scarpe, abbiamo le borse, abbiamo il panno casentino, il restauro, i gioielli, l'ecoprinting, l'arte. In senso, una variegata artigianalità eccellente. Accanto a lei c'è un artigiana molto giovane, ecco, qual è la tua produzione, il tuo progetto? Io sono più che altro un artista, dipingo quadri, realizzo i colori da me e in più realizzo vestiti con tutti i tessuti naturali, con questa tecnica di stampa, con le foglie, con le piante, eccetera, che rilasciano il proprio pigmento sul tessuto. E poi realizzo tante altre cose, mi diverto in modo artistico con tante tecniche diverse. Come sta andando? I turisti vengono? Sta andando abbastanza bene, siamo contenti, ci facciamo conoscere, poi questo progetto stiamo cercando di farlo crescere, farlo proprio capire che qui possono fare esperienze. Poi abbiamo il supporto della CNA, questo è un progetto nato con la nostra associazione, che è la nostra direttrice, ha creduto moltissimo su questo progetto insieme ai nostri artigiani. E questo è un bene per la città, siamo a disposizione della città per far conoscere quello che è l'arte nella provincia d'Arezzo.